Buongiorno a tutti ragazzi qui Negri siamo qui oggi con un nuovo video sul gioco che sta spopolando sul web ovvero Winnie the Pooh e la caccia al miele ragazzi era tutto uno scherzo siamo su Black Ops 4 per provare in anteprima questa bellissima beta e non vorrei perdere l'altro tempo vorrei inoltrarmi nel game ma quanto cazzo durano? non sai quanto cazzo durano quelle cose ci mette tipo un minuto e mezzo per entrare in partita ok come qualcuno ha già notato rispetto a Black Ops 3 gli specialisti non possono essere tutti uguali per squadra no che tutti dicevano è uguale è proprio identico a Black Ops 3 no non è identico perché effettivamente da un po' di varietà al game almeno non trovo tutti gli stones siccome Black Ops 3 è concorazzata che li dovevi trivellare fino al deretano per poterli uccidere ed è assi pure sbagliato specialista vabbè fa niente ok questa spiagetta mi ricorda Catanzaro alfa nostro dovrei perdere tempo come cazzo avrei già questo coso si vabbè non puoi giocare con lo sniper così in questo modo ma io non ho preso niente perché mi hai dato la cattura perdiamo B sono così gentili prendiamo C il nemico ha preso A oh ma che cazzo Ajax e KO ok intanto la vita l'hanno non dico raddoppiata ma quasi e gli stronzi che sparano alla finestra ci sono sempre quelli ci saranno sempre 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 ma che cazzo è Mowgli è uscito dalla giungla vado a farmi un bagnetto dai esci ma che cazzo è questo stronzo che mi ha non mi ucciderai mai ok ho caricato oh my god allora vi faccio uno scherzetto gli metto quel retino anche se non serve a un cazzo e mi camper no no lascemi stare oh wow oh wow oh my god it's so big lo sto prendendo B no non lo stavo prendendo si gira di qua entro in questo quenicolo trovo sicuramente uno stronzo che mi trucida perché è bello che sono ma ok qua si sponna un po' così senza motivo allora qualcuno dovrà uscire da qua e di parte ok ma che cazzo allora questo qua è la mia missione sarà uccidere quest'uomo e rubargli lo sniper perché nella calassia non l'ho messo quindi io vengo a prenderti ora dovete difendere il nemico ha preso alfa mi sparo una bella botta di crack oh c'è ancora si oh che cazzo è che sto sparando tutto questo oh no eh no non è sempre natale io c'ho lo scudo da mettere perdiamo bravo perdiamo bravo ajax capa o metto una barricata ma chi è? chi cazzo è? no ho sprecato la paniera c'è uno che dice c'è uno che dice ah sono io oh my god che pro player ok prendiamo l'obiettivo ma chi cazzo è questo? ma perché c'è sempre questa cosa qua? ma sei tu sei tu sei tu sei tu si 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 posso anche non più giocare il nemico ha preso B no ha preso anche uno ma perché vedi quando devo quando devo tu sei uno strunz immortale pure ma perché sempre lì quello perché sempre lì perché nessuno va adesso come sto per fare io a ucciderlo a trivellarlo e che cazzo mamma ma che cazzo sono fatti questi oh mi carcio struzzo no che bello io intanto non faccio niente mi danno i punti sono tutto emozionato ma perché mi sciolgo così ma che arma è voglio anch'io cazzo sono ingiustissime belle e buone minchia ti trucido le palle scappa scappa che cazzo ma che cazzo ma come posso ma che arma è quella ma perché continua a prendere le cose mi danno i punti io non voglio la vostra carità e tu hai rotto cazzo vedi vedi io gioco con le squadre contro le squadre adesso sono tutti da soli cosa che mi ha lanciato quello ma quanti cazzo sono no ancora c'ho la barriera c'ho anche il filo spinato da poter mettere dove posso metterlo questo filetto spin anzi ma adesso oh my god oh spiderman ma è l'ucciso guardalo l'ucciso 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 spiderman anche io vorrei avere quel rampino per passare da camera mia in cucina quando ho fame ragazzi per chi non lo sapesse qua siamo in italia perché ho notato l'altro giorno c'è un questo che poi si dice fiera del vino c'è un cartellone che sono scritto fiera del vino e poi forse la festa del vino non la fiera fanno la fiera del vino a Roma la fiera ma non la festa no ma chi è in calabria fanno la fiera cosa è la fiera ma la fiera o una festa cioè una fiera o una festa adesso te lo faccio vedere no c'ho già il cecco così di prepotenza dov'è questo cartellino che ho visto vedi gran mercato non mi sa copiato male mi sa che è spagnolo non è che ah ma non siamo in italia questa tipica chiesa del rinascimento non vedi le tecole in prezioso mogano mamma mia che sniper american sniper eccezionale ma che cazzo dove cazzo è uscito questo che infamore questo cosa c'è la mitraietta quella che ti scioglie come se fossi un pezzo di merda sotto il sole mamma mia sono scoperto sniper ah è un sniper no no sempre dietro che palle ma perché ce l'ho dietro tu verrai con me un colpo è morto lascia gestare i miei amici no queste mine mi hanno rotto il cazzo proprio mina mesh no scoop eccezionale adesso campero ecco non è possibile camperare ok perfetto mi è corta quest'anno ho volato via il telo no allora ah dobbiamo difendere benissimo mi spaccherò il culo oh là quanti sono là vai via aspettarmi cazzo oh 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 ma che c'è dietro perché non si rompe è inistruttibile mina mesh ma che c'è queste siringhe sempre dietro come ci siamo uccisi a vicenda insomma mi prude la testa no 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 lasciami stare chi è chi sei ok adesso posso ritornare no chi ha messo il rettino questa modifica è molto cazzuta eh perché proprio quando vai nella zona devi entrare a cazzo duro perché se no ti trucci no vedi così così cazzo e poi muoro però mi danno i punti sono emozionato di sta cosa tu succhiami l'esofago ecco il pompa cazzo duro muori goglione oh ah muori o no ti è andata bene ti ha salvato il round ti ha salvato non è ancora finita non è ancora finita ah cazzo ok inizialmente a piacermi ed è l'ora dell'arrosto è ora dell'arrosto dardo lanciato oh perché non sale sta facendo fatica è un po' grasso oh che bello prendiamo più zone prendiamo più zone oddio quanto è bello sono il dio del barbecue no l'ha finito nooo no 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 ok quello ancora il sniper c'è andiamo a trovarlo mi ha fatto assaggiare il mio gomito chi vuole assaggiare il mio gomito madonna 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 ma che cazzo di pompa è gli devo dare tre colpi tre pompate abbiamo già vinto ok ragazzi adesso che ho mi sono svegliato ed ho cedato sono appunto sarò lo sniper wesley sniper my name is sniper wesley sniper ma io questa mappa ci ho già giocato adesso tipo no ma usate che cazzo mi dice il mirino ho messo non ci posso credere no 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 che sfida all'ultimo sangue ok sniper con questo fucile mirino da fucile d'assalto vedi che non prendo nessuno no no ok ragazzi tra 3,2,1 questo bellissimo cecchino si trasformerà è il mio amatissimo è il mio amatissimo mx9 sti cazzo no no che cazzo ancora non ho capito che cazzo è sto coso mi fa gattonare ok ok salto stile in arrivo troppo facile troppo facile bene non può dovere nooo non ci voglio credere è stato scendendo la triple ma perché questo mi scioglie sempre minaccia rimossa che cazzo si è ormai c'è questo ma la mia è piaciuta bella amata si chiede una stanza la macchina da guerra ti ricordi si poi adesso ci sono si è suicidato perché e per a tutti ragazzi siamo qua su control band la nuova città creata esclusivamente per i che i giocatori di call of duty oh ho appucciato i piedi madonna madonna questo questo li ho trucidato i genitali questo no comunque ho notato che le donne sono veramente forti in questo gioco cioè sono proprio whisky il granchietto lo fate a prova di cazzi vedi 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 quanto sono forti cazzo abbiamo poche vite non sprecate cioè non la poteva stante non la poteva stante no voi potrei uscire no 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 stavo scherzando non volevo fightare con te e invece ti trucidò eliminato stanno finendo le vite eliminateli è l'ora dell'arrosto dardo sensore usato ho questo ho questo scusi lei a sangue a cottura media a sangue invece a sangue a cottura media oddio guardalo quello l'ho sciolto però mi è arrivato lì tutto cioè ci avrà tipo meno due di vita due vita oh è mortale figa è mortale è mortale oh la madonna dove spari zio ho sparato in bocca vedi sempre una donna vedi che anche il battery è una donna batteria come breakups 3 sono immortali vedi 3 devi sparare se non muoio non c'è come nella realtà grazie chiunque chiunque tu sia questo cazzo sto sparando quello vedi 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 che non muore è sempre è sempre la tipa è pigliati la tipa si si prenderò la tipa adesso sono immortale sti cazzi era quello che c'è sempre dietro che mi si guarda tutta vedi che c'è sempre dietro vedi che c'è sempre dietro così non va bella ragazzi il video termina qua ci vediamo alla prossima beta di Call of Duty a settembre se il video vi è piaciuto lasciate un like se non vi è piaciuto lasciate un like bella